Martedì 5 di luglio siamo di fronte alla stazione ferroviaria di Pesaro dove dalle 8 di questa mattina i taxi sono parcheggiati a motore spento. Sarà così per tutta la giornata odierna e anche per quella di domani. Uno sciopero a livello nazionale che viene recepito anche dalle imprese dei taxisti del territorio marchigiano. Concorrenza sleale, liberalizzazione eccessiva ed regolamentata. Queste alcune delle cause che da oggi bloccano i taxi, i turisti che arrivano alla stazione di Pesaro non potranno ricevere il servizio, servizio che verrà comunque garantito nelle ore notturne così come per i servizi essenziali e di emergenza come trasporti verso ospedali o farmacie. Fatto sta che per due giorni ci sarà un disagio a questi trasporti per i motivi che ci spiegano i taxisti che abbiamo ascoltato. Si parla di concorrenza sleale in pratica sono sorti dei soggetti diciamo delle in pratica stiamo parlando in questo caso del caso specifico della Uber che non pagano non pagano tasse hanno dei delle agevolazioni che noi non abbiamo. Caso specifico dello sciopero in questo caso riguarda appunto la concorrenza sleale che tutti diciamo noi siamo già attaccati normalmente dagli abusivi che sembra che insomma si chiude un occhio verso di loro. Abusivi intendo gente che non è regolarizzata a fare questo determinato servizio, gente che si porta davanti alle discoteche oppure davanti agli hotel e rilascia il proprio numero di cellulare quindi è una concorrenza sasleale ma questa non è regolare ma se poi regolarizziamo il discorso di Uber e altri soggetti che lavorano in queste situazioni diciamo avvantaggiate senza regole chiaramente. Noi lavoriamo a prezzi fissi, concordati, regolari e diamo i servizi anche in quelle ore che nessuno di questi soggetti c'è perché non è economico per loro perché inseguono la dinamica del denaro. Noi invece siamo qui dalla mattina alla sera 24 ore. Il dramma di questa strategia è che è appoggiata dal governo, dal governo Draghi, cioè che spinge per liberalizzare, liberalizzare così tede che ognuno fa quello che vuole. Cosa vuol dire ognuno fa quello che vuole? Ci sono più di 150 operatori nelle marche che hanno investito nel loro auto che tutti i giorni fanno un servizio integrativo di quello pubblico, l'hanno sempre fatto anche durante il Covid sopportando i costi e garantendo soprattutto alle persone di andare in ospedale, in farmacia, di fare la spesa, di non essere isolate dal mondo. Quindi noi vogliamo semplicemente dire che questo fermo che ci ha costretto proprio a fermare le attività lo dobbiamo fare perché per far capire che la deregolazione di questo servizio è una cosa inaccettabile perché i nostri tassisti hanno dei prezzi regolati, fanno un servizio con turnazioni obbligatorie. Non possiamo accettare che le piattaforme multinazionali entrino nel mercato italiano senza nessun rispetto di quello che è il lavoro dei nostri operatori. Anche nelle marche noi ribadiamo questo. A Pesaro siamo tutti a fermarci, sempre però rispettando la richiesta essenziale perché se una persona chiama, deve andare in ospedale, in farmacia e ha bisogno, i nostri taxi anche stamattina si sono mossi per dare una risposta. Quindi noi ci siamo sempre e chiediamo di essere ascoltati. Ci dispiace appunto che il governo che ormai è stato sollecitato su questo tema da due anni non abbia ancora dato una risposta.